Aumenta debito sanità regione usi fondi FAS oltre 53 milioni sforati dalla regione certificati dal governo la richiesta di ripianare con le risorse per le aree sottoutilizzate frattura ottimista dura invece la critica del coordinatore del PDL di Giacomo. Taglia indennità ok dalla commissione licenziata la proposta di legge per sforbiciare l'indennità dei consiglieri di Palazzo Moffa e per finanziare i gruppi approvata maggioranza lunedì arriva in aula. Vertenze TR create due nuove società incontro in regione tra le parti clima incandescente in azienda a Campobasso lavoratori fasonisti e sindacati intanto faccia a faccia tra il patron Bianchi e l'assessore Scarabeo. Scuole a Campobasso comune investe in sicurezza l'annuncio da parte dell'assessore Cefaratti abbiamo impegnato oltre 12 milioni di euro è la risposta alle critiche dell'opposizione a Palazzo San Giorgio con Coraldo. Calcio d'estate con il torneo di Riccia ieri la finalissima tra Sinequanone e il Giubileo che ha vinto Telemolisi ha seguito tutto l'evento a Campobasso intanto continua incessante la raccolta fondi del comitato. Buon pomeriggio a tutti voi ben trovati dall'informazione di Telemolise delle ore 14 dunque l'avete sentito aumenta il debito della sanità nella nostra regione che ora sfiora i 53 milioni di euro. Intanto il governatore Frattura si dice ottimista critico invece il coordinatore regionale del PDL Ulisse Di Giacomo ma sentiamo in apertura Giovanni Minicozzi. È durato circa 4 ore il confronto sul piano di rientro dal deficit sanitario che si è tenuto ieri pomeriggio a Roma presso il Ministero dell'Economia. Hanno partecipato Bevere e Francesco Massicci in rappresentanza dei Ministeri della Salute e dell'Economia mentre per la regione c'erano il commissario ad Accheta Paolo Frattura, il sub commissario Nicola Rosato, il direttore generale della regione Antonio Francioni e alcuni dirigenti dell'assessorato alla sanità. Dalla verifica è scaturito che il deficit sanitario nel corso del 2012 è cresciuto di altri 20 milioni di euro superando in tal modo la soglia dei 50 milioni. Per questo i rappresentanti dei ministeri hanno chiesto alla regione di reperire con urgenza i 55 milioni di euro rimodulando i fondi FAS già impegnati in altre opere da destinare al parziale ripiano del debito. La regione è stata anche sollecitata a rivedere, seppure in parte, i piani attuativi dell'ASREM, le nuove tariffe recentemente applicate alle strutture private convenzionate e la riconversione degli ospedali di Agnone, Venafro e Larino in strutture per lungo degenza. Conoscevamo il passivo del bilancio ASREM per il 2012, ha dichiarato Frattura, ma nell'anno in corso i conti stanno già migliorando. Comunque, ha aggiunto il Presidente, il confronto con i ministeri è stato positivo. In questi mesi continueremo a lavorare insieme a loro per migliorare il servizio sanitario e per uscire dal piano di rientro, ha concluso Paolo Frattura. Non la pensa così Ulisse Di Giacomo, il quale ha dichiarato. La delegazione del Molise è stata sonoramente bocciata per non aver disimpegnato 55 milioni di euro già vincolati dai FAS da destinare alla copertura del deficit sanitario come precedentemente indicato dai ministeri. Inoltre, ha concluso il coordinatore del PDL, la Regione dovrà riconvertire gli ospedali minori in strutture sanitarie per cronici e lungo degenze per poter superare gli esami di riparazione di settembre. Intanto partono le lettere di licenziamento per 45 lavoratori della ex cattolica di Campobasso. Alla fine sono 45 i dipendenti della fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso in procinto di perdere il posto di lavoro. Il Consiglio di amministrazione della struttura sanitaria ha deciso di far partire le lettere di licenziamento per le unità in esubero. Un provvedimento, spiegano dalla ex cattolica, che si è reso necessario per il taglio dei posti letto da 180 a 129, ma necessario a salvaguardare la sopravvivenza del centro e degli oltre 400 lavoratori diretti più l'indotto. I licenziamenti diventeranno operativi alla fine di ottobre dopo un periodo di mobilità. Colpa di un decreto del 2011 dell'ex struttura commissariale sulla sanità in Molise, spiegano i vertici della fondazione, con il quale sono stati ridotti a 129 i posti letto. Una decisione che ha abbassato le entrate della ex cattolica, aggiungono dal Consiglio di amministrazione, è che nonostante la riduzione operata nel frattempo sui costi di beni e servizi, ha comportato necessariamente una riduzione del budget per il personale. Per la fondazione Giovanni Paolo II i posti letto attuali implicano un esubero di oltre 50 infermieri, ma anche con i licenziamenti annunciati la struttura sanitaria ha confermato di essere in regola nel garantire i livelli di assistenza previsti dalla legge. La fondazione ha chiamato in causa anche la regione Molise per non aver trovato fino a questo momento una soluzione alternativa per poter evitare i licenziamenti, anche se i tagli alla spesa sanitaria locale sono stati imposti dal governo nazionale. Intanto però è un sanitario regionale fermo al palo, così come l'ipotesi di riorganizzare il settore integrando alla ex cattolica le attività e le funzioni dell'ospedale Cardarelli. La fondazione ha proposto ai sindacati anche un accordo di solidarietà con una riduzione dello stipendio ai dipendenti, ma in grado di garantire a tutti il posto di lavoro. La proposta non è stata però accettata. La decisione di procedere con i licenziamenti è stata presa con grande sofferenza. Hanno fermato i vertici della struttura, ma è servita a evitare di mettere in pericolo l'intera sopravvivenza del centro. I 45 lavoratori che si avviano a perdere il posto avranno comunque priorità assoluta in caso di nuove future assunzioni. Su questo punto c'è la promessa della stessa fondazione. Giovedì alle 10.30 l'assessore regionale al lavoro Michele Petraroia ha convocato una riunione urgente per discutere proprio dei licenziamenti annunciati. I 55 dipendenti della fisiomedica Loretana di Toro hanno chiesto di sedersi intorno a un tavolo con le istituzioni per capire cosa fare e come risolvere la loro situazione. Molto probabilmente il mese prossimo saremo messi alla porta. Hanno detto, abbiamo ascoltato e letto notizie che ci riguardano come la riorganizzazione delle tariffe. Hanno ancora rimarcato i lavoratori, ma nessuno, né Regione, né ASREM ci hanno chiamato. E ora torniamo in Regione dove la prima Commissione ha licenziato la proposta di legge che recepisce il decreto Monti, quello sui tagli alle indennità e al finanziamento dei gruppi. Sentiamo. La prima Commissione del Consiglio regionale ha licenziato a maggioranza la legge proposta dal Governatore Paolo Frattura e dal Presidente Vincenzo Niro, che riduce, a dire il vero non di molto, le indennità agli inquilini di Palazzo Moffa e il finanziamento ai gruppi consigliari. Hanno votato a favore i tre rappresentanti del centrosinistra, Francesco Totaro, Nunzia Lattanzio e Cristiano Di Pietro, mentre si sono astenuti i due consiglieri dell'opposizione di centrodestra, Nicola Cavaliere e Salvatore Micone. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle, invece, non fanno parte della Commissione, ma hanno preannunciato battaglie in aula per ridurre ulteriormente le indennità. La proposta targata Frattura Niro, in sostanza, recepisce la normativa nazionale varata dal Governo Monti con il Decreto Legge 174 del 2012, condiviso anche dalla Conferenza delle Regioni e punta alla riduzione dei costi della politica e ad una maggiore trasparenza nell'utilizzo dei finanziamenti pubblici ai gruppi. Parliamo di un'indennità massima di 13.800 euro l'orde al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio e un 10.100 euro al Consigliere regionale. Ovviamente queste indennità sono suscettibili di modifica a scendere che saranno determinati, come prevede la nostra norma, la nostra legge regionale, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Questo importo, però, è diviso in tre voci. Sì, l'importo è diviso in tre voci e prevede l'indennità di funzione, l'indennità di carica e l'esercizio del mandato. Ovviamente tutte e tre le voci non devono superare quegli importi previsti per il Presidente della Giunta e per il Consigliere e sono determinati comunque queste tre voci sempre dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In la Giunta, però, resta l'articolo 7. L'articolo 7 è comunque un contributo che veniva dato al Consigliere regionale come supporto di natura tecnica, quindi dove si prevedevano l'assunzione di personale di collaborazione. Il decreto 174 parla di una somma onnicomprensiva, quindi si presume che l'articolo 7 decade. Dunque, resta il giallo sull'abolizione della indennità per i portaborse, 2.450 euro netti mensili, prevista dall'articolo 7 della Finanziaria regionale del 2002. Resta anche l'amarezza per aver applicato ai consiglieri del piccolo Molise il tetto massimo previsto dal decreto Monti. C'è solo da sperare che nella discussione in aula, prevista per lunedì prossimo, il compenso mensile dei consiglieri si riduca a un massimo di 5.000 euro netti al mese. Con i tempi che corrono, possono bastare. E dalle indennità dei politici agli stipendi non pagati dell'ITR. Oggi a Campobasso si è tenuto un vertice nella sede dell'assessorato regionale alle attività produttive insieme ai sindacati e ai fasonisti. Vediamo com'è andata. Antonio Bianchi gioca la carta di due nuove società per ottenere gli aiuti necessari a superare la mancanza di liquidità nelle casse dell'ITR. Si affiancheranno all'industria di moda. Una si occuperà dello store a Roccaravindola, l'altra di logistica. In questo modo l'amministratore delegato punta a sbloccare una fideiussione di 5 milioni di euro concessa dalla regione attraverso Fimmolise. Bisognerà vedere però come questi fondi saranno impiegati e se serviranno a sostenere le finanze dell'azienda Tessile che questo mese non ha ancora pagato gli stipendi ai 640 dipendenti di cui 150 in cassa integrazione a rotazione e 60 a zero ore. A Campobasso si è tenuto un vertice con l'assessore regionale alle attività produttive Massimiliano Scarabeo, i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e i fasonisti per capire come risollevare le sorti di una delle più importanti aziende molisane. I sindacati chiedono certezze rispetto agli impegni presi dal vertice della società che nel frattempo avrebbe intenzione di coinvolgere anche un nuovo socio nel progetto industriale di Pettoranello. Già oggi partirà una nota di tutte e quattro le sigle di convocazione di un tavolo ministeriale con la presenza della regione, dei sindacati regionali, dei sindacati nazionali e dell'azienda perché poi è lì che sostanzialmente si può giocare l'intera partita. La regione dovrebbe firmare una fiduzione per far fronte alle aspettanze dei fasonisti e anche dei dipendenti però a tutt'oggi non c'è niente. Noi diciamo che questo tavolo e eventuali tavoli ministeriali credo che non risolveranno le problematiche fino a quando questo imprenditore non ci dirà che cosa sta facendo di questa azienda e che cosa ne vuole fare. Io credo che Bianchi non può pagare gli stipendi e sono anche convinto che Bianchi abbia già preparato un piano di ripiego perché è evidente che non avendo portato giù al bisetti sta tenendo un pezzo sano dell'azienda come è evidente che se l'assessore alle attività produttive spinge per dargli 5 milioni di euro attraverso uno spacchettamento delle società permetterà a Bianchi pur dandogli 5 milioni di euro di fare ancora i suoi interessi e non quelli dei lavoratori. E intanto i lavoratori sono delusi e arrabbiati e tornano a chiedere il pagamento dello stipendio. Per me io ho lavorato e noi dobbiamo essere pagati. Adesso li può dare la regione, li può andare a rubare. Cioè questo è un suo problema perché lui fa l'imprenditore e noi facciamo i lavoratori. Una buona notizia arriva invece per i fasonisti. La giunta regionale ha approvato infatti una delibera che concede altri 12 mesi di tempo per restituire il finanziamento concesso dalla regione. Queste le loro richieste. La prima è quella della sospensione del pagamento delle rate del mutuo concesso dalla regione attraverso la FIM Molise ai fasonisti molisani nel 2009. E la seconda richiesta è quella di capire se a fronte della disponibilità della regione a garantire altri 5 milioni di euro alla ITR, l'azienda stessa ha mai risposto a questa disponibilità con le garanzie reali che l'assessore vuole. Prima della riunione a Campobasso l'assessore Scarabeo ha tenuto un incontro con lo stesso proprietario dell'ITR Antonio Bianchi. Le posizioni si sono avvicinate ma la regione è pronta a intervenire per concedere un prestito solo dietro precise garanzie. Ma io ho dato disposizioni alla FIM Molise di preparare un documento istruttorio. Sembrerebbe che stiamo andando sulla retta via. Sono state costituite due società. Una che dovrebbe occuparsi dell'apertura degli store, degli store in maniera particolare quello lì molisano di Roccaravindola, un'altra per quanto riguarda la logistica. Rispetto a questo noi prenderemo delle garanzie in riferimento al pagamento delle aspettanze dei dipendenti, ripeto, dei fasonisti, dei fornitori di beni e di servizi attraverso un'apertura di conto corrente dedicata presso FIM Molise o attraverso un pagamento diretto che l'istituto bancario di riferimento dell'ITR farà direttamente ai fornitori e ai creditori. Questo pomeriggio intanto assemblea dei lavoratori proprio all'interno dell'ITR di Pettoranello. Clima incandescente anche all'interno dello zuccherificio del Molise. Ce ne parla Manuela Iorio. Clima incandescente allo zuccherificio del Molise dove in piena campagna di lavorazione della barba a bietola sono stati licenziati due dipendenti e un terzo rischi al posto. Si tratta dell'ex direttore di stabilimento e di un'impiegata dell'ufficio bilancio che nei giorni scorsi hanno ricevuto una lettera di licenziamento in tronco per giusta causa. Alla base della decisione del manager Alberto Alfieri che sta traghettando lo stabilimento verso la vendita ci sono presunte rivelazioni di dati sensibili e violazioni del segreto aziendale ma anche l'avvallo di impianti privi di certificazione durante la precedente gestione dell'imprenditore Remo Perna. Solo indiscrezioni, nessuna versione ufficiale. Quello che è certo è che almeno nel caso dell'ex direttore il licenziamento è arrivato dopo un periodo di ferie forzate, dopo un demansionamento e poi una sospensione. I diretti interessati parlano di accuse infondate e per ora hanno messo tutto nelle mani degli avvocati sostenendo di aver sempre tenuto comportamenti nell'interesse dell'azienda. Nel Mirino ora c'è anche l'ex direttore agricolo, anche lui da tempo in ferie forzate ed è entrato in contrasto con il nuovo management. Il tutto è avvenuto nel silenzio dei sindacati che invece hanno inviato al presidente della regione Paolo Frattura all'intera giunta la richiesta di un incontro urgente per conoscere il futuro della filiera e per poter avviare i contratti per l'esemine. Lo stesso manager Alfieri non conosce il suo destino e sono sempre più insistenti le voci di una volontà della regione di volerlo sostituire. L'assessore regionale all'istruzione Michele Petraroia ha incontrato i dirigenti scolastici per illustrare le linee guida sui programmi e i criteri per il dimensionamento scolastico approvate lo scorso giugno dall'Aggiunta. Si è discusso di come evitare duplicazioni degli indirizzi di studio e favorire la scelta di edifici sicuri. L'obiettivo è quello di approvare il piano di dimensionamento entro il primo dicembre. Snellire gli adempimenti burocratici che tolgono circa 100 giorni l'anno all'attività d'impresa. Lo ha chiesto la col diretti Mulisi, al governo Letta e alla regione rispetto al varo del decreto del fare e al piano di sviluppo rurale. La burocrazia con il ritardo dei pagamenti, la mancanza di liquidità e il conseguente indebitamento hanno fatto sapere dall'associazione possono portare a strozzare le aziende. Ora invece andiamo al Comune di Sernia dove sono state rinnovate le commissioni consigliari. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Nominati i componenti delle commissioni consigliari del Comune di Sernia sono quattro e ognuno è composta da otto membri, cinque per la maggioranza, tre per l'opposizione. Ogni consigliere comunale fa parte di una commissione ad eccezione di Edmondo Angelaccio che, unico caso, è presente sia nella terza che nella quarta commissione. La prima si occuperà di cultura e servizi alla persona, la seconda di assetto del territorio, la terza di bilancio e programmazione, la quarta affari generali e personale. Una scelta condivisa che è stata votata all'unanimità da entrambi gli schieramenti a conferma dell'area di collaborazione e concretezza che si respira a Palazzo San Francesco. I segnali sono molto positivi. È un consiglio comunale completamente rinnovato, ma non soltanto nel modo di porsi. L'abbiamo modificato nei giorni scorsi nel corso di conferenze di capigruppo che hanno preparato poi questo consiglio comunale. Dovevamo modificare il regolamento per venire ad una nuova riorganizzazione delle commissioni consigliari con fronte a prodotto tranquillamente una sindesi unitaria per cui all'unanimità abbiamo deciso di apportare delle modifiche e questo lo stiamo registrando anche adesso negli interventi a commento delle linee programmatiche. È chiaro che c'è la distinzione, è chiaro che c'è la critica, però in un spirito completamente diverso, non la contrapposizione pregiudiziale, ma la critica va vista come un suggerimento, una richiesta di modifica di parti programmatiche non condivise. Quindi non c'è pregiudizio, ma semmai c'è una critica serena ed è questo estremamente importante. Al Comune di Campobasso invece è scontro a distanza tra l'assessore Cefaratti e il consigliere di opposizione Coralbo sulla questione che riguarda la sicurezza delle scuole. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Sulla sicurezza degli edifici scolastici di Campobasso è scontro a distanza tra l'assessore Nicola Cefaratti e il consigliere comunale di Costruire Democrazia Michele Coralbo. Era stato proprio quest'ultimo ad innescare la miccia della nuova polemica politica denunciando l'immobilismo dell'amministrazione comunale nei confronti di un problema, quello che riguarda la sicurezza delle scuole che rappresenta una vera emergenza per la città. La replica dell'assessore non si è fatta attendere, parla di strumentalizzazioni l'esponente della giunta comunale e sventisce con le cifre le accuse mosse dall'opposizione annunciando un investimento di risorse il più alto ottenuto dal Comune nel corso degli ultimi anni. Ad oggi abbiamo investito 5 milioni di euro per la sicurezza delle scuole, fa sapere, di cui 2 milioni e mezzo è destinata al miglioramento sismico, l'altra metà ha l'agibilità tra cui le certificazioni antincendio spiega. Ma l'assessore va avanti e annuncia l'approvazione, notizia fresca di giornata, di due nuovi progetti per la realizzazione della scuola dell'infanzia di Via Crispi e di quella nei pressi della Colozza. 3 milioni di euro la somma complessiva per i due progetti approvate ed interamente finanziati dalla Regione, le cui gare di appalto partiranno nel corso del mese prossimo. Ulteriori fondi, sempre per la messa a norma di tutti gli edifici scolastici della città, per un importo di 800 mila euro, mentre sono stati riprogrammati 4 milioni e mezzo destinate alla realizzazione del tunnel che avrebbe dovuto condurre al terminal. Quelle risorse saranno invece dirottate sulla sicurezza delle scuole. Alla fine sono i fatti che contano, commenta l'assessore Cefaratti, e la politica si fa con i fatti, non con le chiacchiere. La stilettata rivolta dritto a Michele Coralbo. Il presidente della Confcommercio Paolo Spina ha scritto ai sindaci di Termoli, Petacciato, Campomarino e Montenero per chiedere controlli contro le attività commerciali abusive. Questo fenomeno, ha detto Spina, che si somma ai problemi della crisi, sta portando al collasso decine di microimprese del territorio. Terminato a Termoli il tetto della piscina comunale, le nostre telecamere sono entrate all'interno della struttura di Via Asia per vedere a che punto sono i lavori. Questo era il tetto inamianto fino a pochi mesi fa. La nuova copertura della piscina comunale di Termoli è questa. La rimozione dei pannelli in Ethernet è andata avanti spedita e il lavoro della ditta specializzata di Roma è già terminato. Ma all'interno della struttura di Via Asia è un via vai continuo di operai. Al lavoro ci sono muratori, elettricisti, idraulici. I locali sono stati tutti smantellati, sono state buttate giù pareti e messe su delle nuove appunto per una nuova ridistribuzione degli spazi. Anche gli operai, ormai logori e malandati, sono irriconoscibili. Gli operai stanno rimettendo a nuovo tutti gli impianti. Questa mattina il sindaco di Termoli, Antonio Di Brino, insieme al comandante dei NAS, Antonio Forciniti, ha fatto un sopralluogo proprio per verificare l'andamento dei lavori. Nei giorni scorsi anche i responsabili della Idrosport H2O che si sono aggiudicati la gestione della piscina e che si stanno sobbarcando economicamente i lavori, sono stati a Termoli e hanno confermato la volontà di voler riaprire per la metà di settembre. Comunque c'è la volontà forte di voler partire con la stagione autunnale. Un sospiro di sollievo per i residenti che nell'ultimo anno hanno dovuto rinunciare al nuoto oppure arrivare fino alla piscina di San Giuliano, di San Salvo o di Vasto, dove ad esempio si è spostata l'agonistica del Termoli nuoto. Tra due mesi potranno tornare nella struttura di Via Asia, completamente nuova e finalmente sicura. I passeggeri in partenza da Roma Termini e Diretti Molise vengono discriminati. Lo ha scritto l'assessore regionale ai trasporti Pierpaolo Nagni in una nota inviata al responsabile dipartimentale di Rete Ferrovie Italiane Massimo Iorani, al quale ha chiesto di compiere un gesto di solidarietà nei confronti dell'utenza, superando alcune criticità, tra queste l'assenza sul binario 20 bis di obliteratrici e di amplificatori. Ora voltiamo pagina, parliamo del Neuromed che rappresenta un'eccellenza del Molise. Il dottor Marcello Bartolo, responsabile della neuroradiologia diagnostica e terapeutica, è stato ospite a Uno Mattina per parlare di due fiori all'occhiello dell'Istituto di Pozziglia. Allora sentiamo i particolari nel servizio di Tonino Danese. Il Neuromed di Pozziglia si distingue da tempo nell'ambito sanitario nazionale non solo, un istituto che negli anni si è fatto conoscere e apprezzare fuori dai confini regionali per qualità dei servizi offerti e professionalità del personale. Con il dottor Marcello Bartolo, responsabile della neuroradiologia diagnostica e terapeutica dell'Istituto Neurologico Mediterraneo, il Neuromed, è stato protagonista a Uno Mattina, una delle trasmissioni di punta di Rai 1. L'occasione è per parlare appunto di due suoi fiori all'occhiello, EOS e Ossiofix. EOS è un'innovativa apparecchiatura radiologica che permette di studiare la colonna vertebrale, il bacino e gli arti inferiori in posizione retta con la massima precisione, soprattutto con una dose di raggi inferiore al 90% rispetto a una TAC e di 8 volte rispetto a una radiografia tradizionale. Può ricostruire lo scheletro intero in 3D con la garanzia di una valutazione precisissima delle curvature della colonna vertebrale e uno studio degli aspetti posturali dei pazienti difficili da valutare con le tecniche tradizionali. Uno strumento EOS è stato sottolineato che è il secondo in Italia e fra i primissimi in Europa, in sostanza oggi chi ha necessità di sottoporsi a un esame con questa apparecchiatura può farlo solo al Neuromed o in Lombardia. A uno mattina è stato illustrato anche Ossiofix, una procedura per riparare le fratture vertebrali difficilmente corregibili con la vertebroplastica tradizionale, una tecnica mini-invasiva che abbatte i rischi di complicanze post-operatorie. Grazie al dottor Bartolo da poco è arrivata dagli Stati Uniti. Ossiofix, inoltre, consente di alleviare il dolore in chi soffre a causa di un trauma, riparando il segmento fratturato in poco tempo, spesso senza ricorrere ad anestesie totali. La ripresa, è stato spiegato in trasmissione, è molto rapida, con soli due giorni di degenza e la possibilità di muoversi senza dolore già dopo 24 ore. E ora torniamo a Isernia, dove su iniziativa dell'Associazione Promozione Donna è stata presentata una raccolta di poesie curata da Andrea Cacciavillani. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Proseguono gli incontri culturali dell'Associazione Promozione Donna, organizzati per far conoscere meglio i vari autori molisani. L'ultimo appuntamento di scena alla Biblioteca Romano di Isernia ha concentrato l'attenzione sulle poesie di Andrea Cacciavillani, originario di Agnone e autore anche di testi musicali. Parliamo della sua poesia, della sua poesia d'amore, della sua poesia che ci permette un dialogo d'amore tra persona e persona. Certo, il combito del poeta non è un combito facile, perché il poeta deve riuscire a trasmettere quel qualcosa che ci permette di superare quella, come posso dire, quella quotidianità così materialista, così piena di interessi privati, perché la poesia ci deve far avvicinare a qualcosa di più elevato, ci deve permettere in qualche modo di scoprire le cose che il più delle volte ci passano così in modo invisibile, inosservato. Durante l'incontro Cacciavillani ha presentato la sua raccolta di poesie minore di diesis, frutto di un confronto con una poetessa. È un dialogo poetico che poi è sfociato in queste poesie, tra me e una poetessa che si chiama Fabiana Grasso. Sono nate queste 30 poesie appunto da questo scambio continuo che noi abbiamo avuto sulla poesia, su dei versi che lei mi mandava, sui quali io poi lavoravo, ho scritto la poesia intera, e abbiamo deciso poi di pubblicarle. Con l'autore si è parlato anche di donne e del loro amore innato per la poesia. Credo che le donne abbiano meno paura di dire che la poesia è bella. L'uomo ha più, sai, questo senso di mascolinità. Che poi in realtà di poeti uomini ce ne sono tanti. Forse, so, bisognerebbe studiarlo, un fenomeno... Gli uomini forse le scrivono di più che le leggono. Oppure comunque ammettono meno facilmente di leggere poesie. Bene, tutto anche per l'informazione delle 14 di Telemolise. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Adesso le previsioni meteo, poi linea allo sport. Buon proseguimento di giornata. Grazie per aver guardato il video.